ha detto che se c'era qualcosa da dire come come giocare come tenere la pala lo diceva però non c'era una tattica era solo 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 ha fatto un discorso multinazionale incredibile ma abbiamo fatto un lavoro incredibile il mister è stato decisivo perché ha dato la titolarità di questa squadra ha rinnovato rimarrà con voi quanto sei felice di questo e quanto ha caricato questa notizia la squadra proprio alla vigilia di questa importante sfida sono tanto felice per lui e tanto felice anche anche per noi lo posso solo ringraziare al mister e al staff per dare questa opportunità in italia avrà il quinto posto in champions league vi sentite già sicuri comunque già molto avanti nel discorso champions oppure ancora sapete che c'è da lottare no la stagione non è ancora finita abbiamo tante tante partite da fare quindi faremo partita a partita dopo vediamo sembra che ho detto come come la vedremo tra due settimane l'importanza di avere due difensori come sbolling e mancini davanti in partito di questo tipo hanno fatto un lavoro incredibile però anche diego lorente che è entrato come un animale è stato è stato bello a vedere tutti che sono entrati sono entrati al cento per cento e per questo che siamo una squadra siamo una squadra forte una una famiglia vera grazie